Il furgone, dopo l'impatto, si è scantato contro una cabina elettrica, abbattendo anche una cartellonistica stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e la polizia locale. Gli occupanti dei mezzi sono usciti da soli dai veicoli, subito soccorsi, hanno riportato soltanto qualche ammaccatura, accertamente in corso sulla dinamica dell'incidente.